Ringraziamo Pasciuti di essere qua con noi perché credo per noi tutti sia un onore essere qua con lui. Volevamo fare anche i complimenti a Lorenzo Pasciuti per i suoi gol nelle quattro maggiori serie, serie D, serie C2, serie C1, B e A. Complimenti Lorenzo. Sicuramente insulti, innanzitutto voglio fare i complimenti a loro perché non è a tutti arrivare in finale. Fatevi un applauso ragazzi! Guarda, secondo me loro sarebbero contentissimi, il coach ho idea anche... Bellissima esperienza questa, sì, incontrare così tanti ragazzi a voler giocare a calcio. E comunque il calcio, secondo me, ma anche secondo loro è lo sport più bello, giusto? Facciuti, 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 facciuti. Una bella esperienza da ripetere. Ciao Nicolo, la prossima volta quando esci dall'ospedale ti vengo a trovare io, così giochiamo assieme, giochiamo assieme come ho fatto oggi con i tuoi compagni. Ciao! 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 Ciao!